Manca poco alla fine del ritiro della squadra partenopea Di Maro, quattro giorni in cui Mr. Sarri dovrà mettere a punto gli ultimi schemi per presentare il Napoli ai nastri di partenza in forma smagliante. Sia chiaro manca ancora tanto all'inizio del campionato, ma questi sono giorni decisivi per gli uomini allenati dal tecnico toscano che devono metabolizzare schemi e movimenti completamente diversi da quelli a cui erano abituati con Rafa Benitez. Intanto ieri, seconda uscita stagionale del Napoli che ha battuto 5-2 il Feralpisalo. Gli azzurri allo stadio di Trento sono scesi in campo con un 4-3-1-2 con tante novità a partire dalla maglia da titolare per Giorginio al posto di Valdifiori e con insigne trequartista alle spalle di Mertens e Caleon. Esordio per il neoazzurro all'anno applauditissimo dai tifosi è entrato a metà ripresa al posto di David Lopez, protagonista del match Mertens che ha segnato una doppietta. Le altre reti del Napoli sono state segnate da Insigne, Coulibaly e De Guzman per il Salò che milita in Lega Pro hanno segnato Romero e Guerra. I prossimi test del Napoli sono in programma il 29 luglio a Di Maro contro il Cittadella e il 2 agosto a Nizza contro il club francese. Intanto oggi lungo colloquio tra il direttore sportivo Giuntoli e il tecnico Sarri sul campo di allenamento. Un briefing di mercato sulle operazioni da mettere a segno per la difesa dopo che è saltato il discorso con Astori. In Napoli a caccia di un difensore centrale e di un terzino destro si proverà a riaprire la trattativa con Maximovic del Torino, molto vicino Versalico del Sassuolo.